Ciao ragazzi, come stai? Hai risposto? Spero stai bene. Ok, oggi non so tu cosa hai in programma, ma noi abbiamo deciso di fare una giornata libera, quindi allenamento libero, fuori la scheda, fuori la programmazione, fuori la lavagna, fuori tutto. Ne parlavo in questo video, vai a dargli un'occhiata. L'idea di questa giornata è allenarsi un po' come ti viene, fare quegli esercizi che di solito non si fanno mai, quindi lo stretching, la mobilità, lavorare un po' più sulla schiena, sai, quelle cose che non fai mai ce le hai presente? Quindi, a parte tutto, ti consiglio di dedicarti a una giornata così, entri in palestra senza pensiero di fare, voglio, devo, spingere, oggi fai quello che ti senti. Io l'ho fatto, quindi dai un'occhiata a questo video di oggi e poi magari ti vai a guardare anche gli altri degli allevi, perché questo è il mio, quindi in poco più di un minuto, dagli un'occhiata. Per oggi ti dico, allenati bene e noi ci vediamo lunedì. Ciao! 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 Ciao!